Al pronto soccorso e l'annunziata di Cosenza mancano spazi adeguati e personale, problema ancora risolto infatti quello della carenza di medici, infermieri e os, eppure erano state annunciate nuove assunzioni. Noi abbiamo fatto tutte le assunzioni possibili, il problema è stato che sia per quanto riguarda il discorso del concorso, sia per quanto riguarda gli avvisi a tempo determinato che sono stati fatti secondo le regole a livello regionale rispettate, per il pronto soccorso hanno risposto in pochi o non ha risposto nessuno.